Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, scopriamo insieme la tendenza per la giornata di domenica che sarà un po' più turbolenta su alcune zone del nord. Guardate di fatti questo fronte di stabilità dalla Francia che apporterà entro la serata qualche pioggia, acquazzone o temporale al nord, soprattutto l'angolo nord-occidentale, più asciutto altrove. Andiamo a vedere con la prossima grafica, la nuvolosità ci conferma il passaggio di un po' di variabilità sul nostro paese, ma anche belle aperture del cielo al centro-sud e poi verso sera qualche temporale che si formerà sulle regioni settentrionali. Eccolo qui la mappa in sintesi dell'Italia, gli acquazzoni, qualche breve temporale soprattutto tra Piemonte e Lombardia, attenzione anche di forte intensità, meglio al centro-sud con più aperture del cielo, ma soprattutto temperature estive su alcune zone si supereranno i 25-26 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo!